Manifestazione in tutta Italia, a sciopero della scuola, siamo con un insegnante qui a Chieti. Quali sono i motivi di questa protesta? I motivi sono tanti, ma li possiamo riassumere in uno solo. La scuola sta diventando un'azienda, sempre di più, dove possono entrare personaggi provenienti da grandi nomi, grandi firme, e non ne faccio. Viene sminuito completamente il lavoro dell'insegnante, il quale non è più titolare della sua classe, ma diventa un nome all'interno di un elenco di tanti docenti della regione, e quindi dopo ogni anno può pensare di essere mandato chissà dove. Un insegnante che ha lavorato per 40 anni per fare in modo che la scuola sia un luogo di benessere, dove i bambini si sentono ascoltati, si sentono partecipi di un sistema di formazione, dove i genitori fanno parte anche di questo grande sistema, e si va avanti tutti insieme, condividendo, cooperando, e allora questo non ci sta più bene, perché il mondo della scuola sta veramente crollando. Noi domani, in qualità di genitori dei bambini della scuola di Via Bosio, siamo un'unica anima, e abbiamo deciso di boicottare domani e dopodomani le prove in valsi, perché è anticostituzionale spostarle, in quanto erano previste per oggi, per la giornata di oggi, e invece il governo ha deciso di spostarle a domani, e loro ci ignorano, noi boicottiamo. Noi condividiamo in toto e siamo tutti presenti.